non ha uno, si chiama t-shirt, è qualcosa che fa anche le magliette, aspetta, è nell'isvillage perché non mette a fuoco adesso? in quel lato che ho visto Claudio, però c'è tipo, 3 steppe per poter prendere un gatto vengono a fare un interview, vengono arrivati a controllare la casa è un po' più alternativo quello che dico io, è un posto un po' che ci sono dentro anche altri animali del tipo, questa lente qui è stupenda ci sono dentro anche tartalughe, serpenti beh andiamoci purtroppo mi sfugge se è nella quarta o nella terza, non saprei a chi chiederlo se non è un posto eh ma non mi ricordo il nome, posso chiedere a Jason forse buongiorno 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 ok, a shave oggi? no 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 io voglio cutti il mio hair vuoi cutti il tuo hair? e poi? comunque è forte, no? ciao 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 come stai? bene e voi? non c'è male stiamo facendo un grande... ok stiamo facendo un grande... ok che è successo con il tuo 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 Poi ricaisce proprio il cuore, appunto. Io non ho proprio tanto caldo. Appunto, ma poi un minimo si mostra, c'è chi se ne frega. Per fare un regalo è una roba un po' speciale, anche perché è un po' antico. Dopo nell'articolo avevo scritto tutte le... non so, la provenienza delle poltrone che le hanno trovate in un posto degli anni venti, insomma. Nice hair. Non riesco a metterle a fuoco bene. No, è vero. E' un po' più femminile, no? Hai visto per caso il sito di Maurizio? Te lo volevo mandare, e il video di Madonna? Sì, ma l'ho già visto il video, in to the groove, dopo sono partita per una maratona, visto quello, ho guardato tutti i video, insomma, gran parte, perché ero in sta casa, non mia. No, adesso è finito oggi, c'è sto mega computer, a parte che mi sono resa conto che io non voglio... Cioè, devo avere sia la connessione internet che... A casa mia io non ho né la connessione internet, né il computer funziona, in sostanza. Ma quello di Claudio, nuovo, è stupendo. Lui è esaltato. Sarebbe quello da comprarsi. No, quello è esagerato. Costa un sacco. Ma io dovrei lavorare, però. Sì, ma ti basta uno come il mio. Il tuo qual è? Il 1300, è quello più piccolo, ha 13 pollici, invece che c'è 7. Il bianco? No, 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 è sempre pro. Ah, sì? Però ne parlo anche del 13 pollici adesso. È più piccolino, più leggero, perché l'altro pesa 50 kg. E questo è veramente la metà, però è bellissimo, puoi lavorare, cioè io ci lavoro sempre. E ha comunque molta memoria o te lo devi far preparare come... Te lo puoi far preparare come vuoi, il mio c'è tipo 160 giorni di memoria. Ma che bello occhi! Francesca, stai facendo un video più buona. Gira, 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 gira! Sì, ma avendo vicino... Ah, no, grazie, ho just got a huge iced coffee. Oh, ok. Maybe he, I don't know if he's... Would you like something to drink? Do you have water? I'm going to get you a bottle of water. Ok. Eli? Esca. Snapple? 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 Huh? You want a snapple? Peach snapple, bottle of water, coke, and two snapples, bottle of water and coke. That's a good idea, right? No, I got it. What do you want? I got it. I got it. I got it. I got it. ... Good, isn't it? It's random, no? I don't know. It's random. I think it's a red one in the car. It's a red one in the car. It's a red one. Yeah, yeah. è vero che viene dalla steppa e poi l'altra sera siete stati molto in treno oppure è stato abbastanza semplice ah si? che contenta che sono mi ero sentita un po' che dopo tu però piacevole col proprio marito dai e poi il cibo era buono c'è anche l'acqua beh l'acqua è stata il bagno oddio c'è una cosa che compare che cos'è? sembra una temperatura sembra un termometro una cosa che magari è un'estituzione per via grazie grazie grazie